È una bella piazza che sarà molto frequentata ogni estate, già quest'estate ne ha dato prova, sono sorti dei locali e la Brigata Maiella, un manipolo di eroi abruzzesi, stimato in tutto il mondo e studiato anche, le vicende storiche sono studiate soprattutto in Inghilterra, ai quali furono l'esercito inglese, sono stati affiancati all'esercito inglese e forse noi abruzzesi abbiamo una conoscenza inferiore. Quindi cosa di meglio di una piazza a Montesilvano nuova che sarà frequentata anche da molti giovani per poi magari far sorgere un monumento, per portare le scolaresche e per far conoscere ciò che di meglio abbiamo avuto in Abruzzo, una generazione di ferro che deve essere studiata e alla quale le nuove generazioni speriamo noi dell'AMPI si possano ispirare in futuro. Noi ci rivolgiamo all'amministrazione comunale di Montesilvano, al consiglio comunale che ha bandito un sondaggio a settembre ai quali noi abbiamo partecipato e speriamo che seguano questo nostro consiglio. Pensiamo che intitolare a dei personaggi popolari, di popolo, quindi non a un singolo personaggio, ma a un qualche cosa che ha espresso la nostra regione in un passato di liberazione, possa essere sicuramente meglio rispetto a nobili personaggi, però di altre estrazioni territoriali. Grazie. Grazie.